Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore Allora ragazzi, quest'oggi con ogni probabilità andremo a concludere questo mese di agosto e quindi andremo a chiudere anche il calcio a mercato che purtroppo ci ha visto i protagonisti all'inizio però adesso la cosa è un po' scemata perché purtroppo dei quattro giocatori che ho perennemente sul mercato non arriva mezza offerta e quindi ragazzi, questo purtroppo mi impedisce di continuare a fare mercato perché prima di fare entrare altri giocatori sarebbe molto importante farmi uscire perché poi ragazzi non voglio essere assolutamente in sovrannumero quindi speriamo che poi durante questi mesi si riesca comunque a cedere questi giocatori per poi intervenire nel mese di gennaio Comunque ragazzi, come sempre, prima di iniziare a giocare vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità a seguirmi sulla pagina Instagram e a sostenere il canale tramite un abbonamento e ad una donazione Detto ciò ragazzi, direi che senza perdere tempo possiamo scendere subito in campo per questa prima partita di oggi contro il Verl squadre che chiaramente ragazzi non conosco molte squadre in questa categoria non le conosco con tutto il bene per il calcio tedesco però oltre che la Bundesliga e qualche squadra della Bundesliga 2 segue molto poco le altre squadre quindi è chiaro essere un pochino in difficoltà comunque ragazzi, squadra che vince non si cambia per il momento 3 vittorie su 3 in campionato quindi confermo tutti quindi Gekchen Marino, Chiarodia, Belcaia e Lannert in difesa centrocampo con Bulli Jab, Wurl e Shrek in attacco Bamba, Momolu che è diventato anche ufficialmente una punta centrale e sulla destra sempre Basi e possiamo subito avanzare Basi, Basi l'appoggio corto Momolu stava calciando non si creda ragazzi fermato sul più bello Momolu stava letteralmente spaccando la porta col sinistro ma il difensore l'ha fermato e occhio Lannert c'è l'insediamento da parte di Basi di Mika non è fuori gioco non mi sembra essere fuori gioco ancora lui che va col destro e trova il gol del vantaggio 1-0 si sblocca la partita bene così ragazzi segna ancora Basi Basi Buzze Buzzei 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 quello di Colorado comunque ragazzi Buzze mi piace Buzze lo chiameremo Buzze da oggi in poi comunque 1-0 si sblocca la partita segna appunto il nostro attaccante la nostra alla destra che è al terzo gol in campionato devo dire che sta effettivamente mostrando il suo 70 di overall perché si nota proprio che sembra essere una cilindrata maggiore rispetto agli avversari calcio d'angolo per noi siamo ancora in avanti vediamo un po' Shrek per provare a mettere in mezzo verso il numero 2 no chi era comunque sarà stato tipo Chiarodia comunque c'è l'opportunità per Belcaia il difensore centrale non ci credo ragazzi qua col sinistro suo piede debole tra l'altro stava cacciando fuori il gol del secolo è uscita di pochissimo e occhio che possiamo avanzare no ma perché mi ha fermato ma stavo andando in porta spero fosse fuori gioco lo spero per il gioco perché altrimenti è vergognosa sta cosa comunque finisce il primo tempo 1-0 all'intervallo per noi segna ancora il nostro Buzz che continua effettivamente a dimostrarsi un ottimo giocatore comunque ragazzi andiamo alla ripresa devo dire che stiamo dominando i nostri avversari non si sono visti proprio certo non stiamo dominando a livello di chance e occasioni però a livello di gioco e di possesso nel senso che il palino del gioco è sempre il nostro sì e occhio Bujelab si stacca benissimo Bamba che può andare col sinistro e va a segnare il gol del 2-0 qua bellissima giocata da parte della nostra squadra del nostro Arminia 2-0 segna Bamba o Bamba ma ovviamente Bamba mi piace di più ottimo l'assist da parte di Bujelab che aspetta il momento perfetto per servire il compagno ex Dortmund arriva il gol del raddoppio 2-0 e occhio ragazzi sono in avanti i nostri avversari che provano a affacciarsi in avanti per la prima volta al 74esimo arriva addirittura il tour in porta qui con il pallone che era rimasto letteralmente incollato ai piedi dell'avversario non si poteva proprio togliere comunque riusciamo a salvarci e occhio che c'è l'opportunità ancora per Buzz che può andare Buzz prova la finta Momolu che non si muove benissimo quindi la palla va a whirl svanito un po' quell'effetto sorpresa comunque c'è ancora Sheck che va l'indietro da Buzz andiamo un po' ancora il tocco dentro Momolu la mette fuori peccato bella azione ma non siamo riusciti a concretizzare e arrivano anche i soliti 5 cambi che si sono visti ormai in tutte le nostre partite dentro di Benedetto e Misuda al centrocampo in attacco Bianca Di Putaro e Scholz per questi ultimi 10 minuti e occhio ragazzi che si chiude in avanti con Misuda che trova il gol del definitivo 3-0 qua vabbè diciamo una squadra avversaria totalmente ormai fuori dalla partita qua ottimo il 34 a servire questo assist 34 che dovrebbe essere Putaro quindi assist da parte del centroavanti e arriva il gol di Misuda che ogni volta che viene messo in campo a partita in corso devo dire che è un'ottima pedina è un giocatore che riesce sempre a imporsi e a essere pericoloso comunque ragazzi un'altra bella vittoria per noi 3-0 ancora ragazzi che non subiamo gol e devo dire ragazzi che è gran parte merito del portiere perché si difendiamo bene rischiamo poco subiamo proprio poche azioni da parte dei nostri avversari però quelle poche volte che magari in passato con una singola azione subivamo gol questa volta per il momento grazie al nostro postiere riusciamo ad evitare di subire gol e infatti ragazzi siamo primi con 4 vittorie 8 gol fatti e 0 subiti certo 8 gol non sono tantissimi però appunto ragazzi 0 gol subiti dopo 4 partite è un ottimo risultato comunque ragazzi continuano a non arrivare offerte a me sta cosa fa ridere perché non ha veramente senso e a suo punto ragazzi scendiamo in campo facciamoci la partita anche contro Lalle che è una squadra dove appunto si gioca un importante torneo di tennis quindi lo conosco per questo motivo conosco la città per questo motivo nel senso mi è familiare perché appunto si gioca il torneo di tennis comunque ragazzi appunto scendiamo in campo stessa formazione di prima non vado a cambiare nulla perché non avrebbe senso e dopo questa partita andremo a concentrarci sull'ultimo giorno di calciomercato magari possiamo capire se si può fare qualcosa qualche altro investimento qualche offertina così vediamo ragazzi però per il momento è più importante concentrarsi sulle partite sul campo c'è qui bel pallone recuperato c'è addirittura Whirl che è rimasto avanti Whirl Whirl col sinistro trova il gol del vantaggio 1-0 si sblocca la partita gol a sorpresa segna Whirl il nostro cdc prestato dall'annover che potrebbe essere riscattato anche lui palluteremo a stagione in corso però per il momento sicuramente sta facendo delle ottime partite è un giocatore molto ordinato che dà anche proprio ordine in generale quindi è un giocatore per il momento molto prezioso e occhio ragazzi possiamo ancora avanzare c'è Buzz che può andare Buzz Buzz sterza da solo c'è qui Bamba non ci credo ragazzi clamorosamente becca il palo però caro signor albito direi che quello è rigore anche abbastanza netto comunque possiamo andare Bamba si è fatto male Bamba si è fatto male seriamente non si rialza purtroppo ragazzi lì oltre a danno anche la beffa il gol che non arriva è Bamba che viene clamorosamente infortunato da parte dei giocatori avversari perché ragazzi quello lì innanzitutto è rigore perché si abbiamo preso il palo però appunto è rigore dovrebbe comunque valere il fallo ci mancherebbe altro e purtroppo ragazzi Bamba esce addirittura in barella cioè ragazzi voglio dire qui sì Bamba ha calciato però il fallo è abbastanza evidente cioè abbastanza evidentemente clamoroso cioè questo volevo dire è veramente assurdo che non ci abbia fischiato il rigore sì ha calciato però ragazzi chiaramente il fallo se c'è diciamo nella vita vera il rigore si dà se segnava non si dava chiaramente però nel momento in cui calcia becca il palo il fallo vale comunque quindi errore clamoroso qui da parte del gioco comunque termina anche il primo tempo accade proprio nel finale diciamo non si è capito nulla alla fine speriamo che non sia nulla di troppo grave per Bamba il giocatore che è appena arrivato perde lo sarebbe veramente un peccato incredibile chiaramente ragazzi l'uscita così in barella vuol dire che il minimo sono tre mesi quindi ragazzi sicuramente per tre mesi non ci sarà questo vuol dire che a suo punto la cessione di Szypnowski e dell'altro lì dell'altro attaccante dell'altro esterno fa anche comodo che non avverrà però ragazzi veramente è un peccato per il giovane Bamba qui intanto Momolu prova a passare ci riesce addirittura non so se avete fatto caso però era andato in scivolata anche un giocatore che era molto molto più indietro al centrocampo praticamente quindi in un colpo solo ne aveva assorditi due qua ragazzi occhio ai nostri avversari all'alle ma riusciamo a salvarci sempre con Kerkchen occhio qui in qualche modo riusciamo a prendere il pallone con Shrek che va dentro da Momolu che poi va col destro e arriva la parata di Schurze che la mette in calcio ad angolo comunque ragazzi proverei a fare cambi un pochino prima oggi quindi vado a mettere Putaro Schultz e come sempre di Benedetto e Misuta perché ragazzi sono giocatori che potrebbero incidere anche positivamente nel senso che potrebbero fare appunto la differenza comunque Schultz che va a battere il corner a cercare proprio Putaro che viene anticipato e si salva l'alle che prova addirittura a ripartire in contropiede non li facciamo passare occhio qui che si crea dello spazio mi sembra che siamo riusciti però a ritornare in difesa anche se c'è ancora quella situazione di pericolo ma Chiarodia ragazzi Chiarodia ferma tutto addirittura prova a farci ripartire è bello il pallone di Benedetto per Bianca D che può andare Bianca D va a servire Putaro 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 il sinistro di Putaro forse l'ha ritardato troppo Hurl prova a calciare ancora arriva la parata dei portieri Schultz sarà ancora calcio d'angolo palla dentro di testa Bianca D lì viene anticipato cioè comunque come si chiama Balcaia si chiama il difensore eccolo qui e occhio ancora Hurl l'appoggio per Putaro il tacco è bello per Di Benedetto che passa che giocata Di Benedetto mamma mia ragazzi che gol che ha fatto Di Benedetto mamma mia ragazzi come ha sgusciato con l'incredibile 2-0 mi aspettavo tutto tranne che riuscisse a fare un gol del genere è un 59 ragazzi se continua a giocare in questo modo guardate qui ragazzi bravissimo che giocata mamma mia che gol che ha fatto Di Benedetto e ragazzi Buccellab secondo me rischia di perdere il posto ai danni di Di Benedetto secondo me sarebbe anche giusto visto che effettivamente lui l'abbiamo acquistato è più un giocatore di ruolo rispetto a Buccellab e penso che Buccellab rispetto a diciamo come commisuta potrebbe essere un ottimo innesto a partita in corso comunque ragazzi che gol che ha fatto mamma mia quasi non ci crede occhio che abbiamo ancora l'opportunità con Gurl che oggi fa praticamente la punta centrale e trova addirittura una doppietta clamorosa che partita ragazzi 3 a 0 quest'oggi la decidono i centrocampisti e oggi ancora Putoro che può avanzare prova ad accelerare riesce a tenere anche di fisico e va anche col sinistro a calciare oggi non so parlare e Schultz il portiere dell'alle riesce ad evitare il gol del 4 a 0 che effettivamente forse sarebbe anche un po' troppo pesante ma noi ovviamente se ci riusciamo comunque noi ci proviamo comunque qua dovrebbe arrivare il fischio finale ok ragazzi bella vittoria bella partita più che altro che ha riservato delle emozioni inaspettate comunque 3 a 0 finisce qui la partita grandissima performance da parte di Gurl e quel gol di Benedetto resta negli annali e adesso ragazzi è il momento della delusione è il momento di scoprire due mesi ragazzi ok dai pensavo peggio frattura del metatarso e in più la Finlandia che ci vuole come allenatori comunque ragazzi due mesi di infortunio per Bamba si pesano comunque a prescindere però ecco pensavo molto peggio offerta per Scholz dal Cosenza ma Scholz non lo voglio assolutamente vendere e adesso ragazzi arriviamo all'ultimo giorno di calciomercato vediamo un po' se possiamo fare qualcosa ma ragazzi ne dubito altamente difficilmente arriveranno offerte per i nostri giocatori che sono sul mercato non sono arrivate fino ad oggi sarebbe veramente incredibile se arrivassero tutte ore nell'ultimo giorno di calciomercato sarebbe veramente strano comunque ragazzi però a prescindere una piccola occhiata alla brosa perché allora noi in porta siamo a posto perché abbiamo comunque Kerkshen e quest'altro portiere che può fare per quest'anno il secondo portiere poi se eventualmente verrà richiamato a gennaio non è un problema non penso che con Kerkshen ci saranno problemi eventualmente abbiamo questo giovane Busse prestato quindi nelle peggiori peggiori delle ipotesi vado a richiamare lui da presto però è veramente improbabile che il portiere si infortuni allora in difesa i terzini Marino e Oppie sulla sinistra vanno benissimo titolare Marino Oppie sostituto i centrali mi sto trovando molto bene con Belcaia e Chiarodia infatti ragazzi non abbiamo ancora subito un gol poi c'è Grober e appunto Kolkia che potrebbero fare i sostituti con Schneider che io lo volevo vendere non sono arrivate offerte però poi sulla destra abbiamo Oskan e Lannert con Lannert che si sta comportando molto bene Oskan tra virgolette è anche un piccolo Jolly da mettere a centro campo perché abbiamo visto che è anche un ottimo centrocampista centrale poi a proposito dei centrocampisti allora al centro direi di mettere World cioè chiaramente World è il titolare e si potrebbe addirittura riscattare però ragazzi io lo vorrei vedere come centrale secondo me lo può diventare quindi si potrebbe addirittura riscattare comunque con calma vediamo un po' come andrà a finire potrebbe essere l'ultimo regalino che ci possiamo fare l'ultimo giorno di calciomercato vediamo ragazzi perché lui quanto vale un milione e nove secondo me se lo prendiamo ora è meglio perché poi cresce e diventa troppo valoroso e non lo potremo prendere poi in futuro quindi secondo me si può fare il tentativo comunque World e Gierkens che attualmente sono i giocatori che giocano al centro con Gierkens che però è sul mercato ma non è arrivata mezza offerta Di Benedetto che è la riserva per il momento di Bucelab che però a suo punto ragazzi sto pensando di mettere Di Benedetto titolare visto che ha fatto un gol incredibile poi ogni volta che entra in campo si comporta bene un buon centrocampista quindi vediamo ragazzi perché poi a prescindere Bucelab come sostituto a partita in corso potrebbe essere effettivamente un giocatore che spacca stessa cosa con Misuta che effettivamente lo sta dimostrando facendo la riserva di Shrek che sicuramente ragazzi è un gran centrocampista ci piace molto ci troviamo bene quindi direi che non c'è motivo di cambiare ovviamente poi andando sugli esterni offensivi abbiamo sulla destra Scholtz che appunto diventa ufficialmente una la destra è la riserva di Buz eccolo qui Schipnoski e Ildrim che rimangono sul mercato purtroppo non arriva mezza offerta Chiuvit vabbè mandare in prestito però ragazzi a questo punto diventa importante avere un giocatore come Schipnoski visto l'infortunio del del giovane Bamba quindi ragazzi Schipnoski rimane sul mercato però per questi mesi lo metto come alla sinistra visto che mi serve al posto di Bamba infortunato e il titolare sarà Bianca D per questi per questi due mesi speriamo che Bamba torni in fretta Bianca D che teoricamente è la riserva di Bamba Bianca D per quest'anno secondo me è un ottimo sostituto perché anche lui ha un'ottima accelerazione ogni volta che entra in campo sembra essere anche più veloce rispetto a quello che dicono le statistiche sinceramente comunque ragazzi vediamo perché può essere pure che mi trovo bene con Schipnoski e rendo lui il sostituto di Bamba e provo a vendere Bianca D effettivamente posso mettere anche Bianca D in vendita ragazzi me ne basta uno da vendere quindi vediamo un po' a chi arriverà l'offerta per prima comunque ragazzi per chiudere le punte centrali sono ovviamente Momolu che qua l'abbiamo acquistato anche a titolo definitivo quindi speriamo di farlo crescere e poi ragazzi la riserva Putaro che anche lui a partita in corso per il momento ci sta dimostrando un ottimo attaccante e quindi ragazzi questo è ovviamente i giocatori ci sono avete visto che ci sono dei giocatori sul mercato ovviamente andremo poi ad acquistare nuovi giocatori solamente quando questi qua verranno venduti ma per il momento non sembra veramente che ci sia area di cessione quindi ragazzi questo mi fa pensare che mi fa pensare che se vogliamo fare qualcosa se ne parla a gennaio sinceramente l'ultimo regalino che possiamo farci visto che abbiamo anche è una finanza di 2 milioni tondo tondo è quella di provare ad acquistare World a titolo definitivo non sarà semplice ma ci proviamo vediamo un po' quanto ci chiederà l'annover quindi World proviamo a contattare la squadra tedesca ovviamente e vediamo un po' che ci dicono ovviamente ragazzi in questo caso si tratta di una trattativa tra virgolette normale sapete ragazzi cosa posso fare se io per caso ti do Girkens però poi resto comunque senza un centrocampista no ragazzi proviamo però a vendere tipo questo non bianca di questo il dream vediamo un po' se sono interessati poi gli do un milione vediamo che dicono vediamo che dicono sono interessati a il dream però vogliono qualcosina in più secondo me ragazzi l'offerta di un milione più il dream è ottima vediamo che dicono sì hanno accettato molto bene ragazzi almeno ci liberiamo di uno di questi esterni così lo mandiamo all'annover per quanto riguarda gli altri ovviamente aspetteremo quello qui il dream quindi resteremo sul mercato con Girkens Schneider Bianca di e Sipnoski però ragazzi Sipnoski e Bianca di se ne esce uno l'altro resta perché uno uno dei due mi deve fare da sostituto per questa stagione per questa stagione al posto di Bamba cioè comunque deve fare la riserva di Bamba comunque offerte inviate World proviamo a prenderci a titolo definitivo questo centrocampista che tanto sta facendo bene con noi dopo questa doppietta fatta sicuramente si merita il riscatto quindi andiamo a dargli un ruolo importante 5 anni di contratto che accetta molto bene e lo stipendio che se lo abbassa pure magnifico direi di fare molto semplicemente 2,5 a settimana con 25.000 di bonus in gaggio dovrebbe tranquillamente accettare infatti è così perfetto ragazzi chiudiamo il nostro calciomercato con l'acquisizione a titolo definitivo di Marius Hurl e ragazzi continuano ad arrivare offerte per Scholz che sia effettivamente un talento molto interessante però come dico sempre non lo voglio vendere e non lo venderemo ragazzi lui secondo me dovrà essere un giocatore importante per noi da ogni punto di vista quindi speriamo che possa crescere insieme a noi comunque ragazzi ormai mancano 4 ore al termine non arriva veramente una minima offerta per i 4 giocatori che ho sul mercato adesso ho messo anche Bianca D ma nulla nessuno che vuole i nostri giocatori speriamo ragazzi adesso l'unica cosa che possiamo sperare è che appunto durante questi mesi che ci separano dal mercato di riparazione quindi dal mese di gennaio arrivino effettivamente delle offerte che quindi poi a gennaio si possa intervenire si possa fare qualcosa comunque termine all'ultimo giorno di calciomercato arriva un aggiornamento dell'osservatore che si ci interessa però ragazzi mi interessava molto di più provare a cedere gli altri giocatori lui sembra essere carino proprio ad ingangiarlo però per il resto nulla di che e quindi ragazzi arriviamo al giorno della partita contro appunto il che squadra non ho visto neanche comunque adesso ufficializzo Shipnoski riserva di Bamba nel senso giocherà come titolare tra virgolette e ragazzi di Benedetto dal primo minuto Buce Lab e Misuta in panchina che entrambi secondo me potrebbero spaccare a partita in corso quindi Bianca Di rimane comunque in panchina e per il resto ragazzi rimane tutto invariato Girkens che sarà la riserva di World per questi mesi speriamo che World non abbia mai bisogno di essere sostituito diciamo così e quindi ragazzi questo è direi che per oggi possiamo anche fermarci qua nella prossima puntata inizieranno le tre partite dell'episodio quindi inizieremo contro il Muster che ha 8 punti noi ha 15 quindi stiamo già iniziando a mettere delle ottime distanze rispetto alle inseguitrici quindi molto bene ragazzi allora energia per i titolari e prestazioni per le riserve come sempre adesso ragazzi bamba speriamo che possa recuperare la lucidità più in fretta possibile un'occhiata al calendario per vedere che nella prossima puntata Muster Aue e la terza partita è contro il Lubecca quindi adesso abbiamo solamente il campionato siamo subito usciti dalla coppa quindi ragazzi sarà una stagione involata per sperare di arrivare più in fretta possibile in Bundesliga 2 e questo è ragazzi mi sembra di aver fatto tutto per oggi vi ho mostrato tutto mi sembra di scordarmi qualcosa ma evidentemente evidentemente non è così comunque ragazzi non lo so secondo me vi ho mostrato tutto forse volevo vedere se riuscivo a trovare un nuovo preparatore si può darsi però mi sembra comunque di stare scordando qualcosa ragazzi io aspetto sempre che escono dei preparatori che abbiano 4 stelle con il Tiki Taka come per esempio questo qui del difensore però ragazzi il problema questo qui si è esperto Tiki Taka però io ne ho già 2 come difensori quindi visto che ho un limite di quanti preparatori 6 secondo me si me lo acquisto però ragazzi 6 vuol dire che posso fare 6 diviso 4 non si può fare vuol dire che vabbè ragazzi dai mettiamolo si possiamo prenderlo acquistiamolo abilità difensive 4 Tiki Taka eccolo qui prendiamolo lo mettiamo qui vicino appunto agli altri difensori almeno con i difensori siamo in forma però ragazzi eventualmente un terzo non lo acquisto aspetterò di prendere almeno uno per porta centrocampo e attacco e un altro in più il sesto o per il centrocampo o per l'attacco comunque ragazzi il primo che trovo me lo prendo comunque non è cambiato nulla ovviamente no nessun nuovo preparatore comunque ragazzi io ho qui una cosa che voglio mostrarvi che secondo me è interessante non mi ricordo dove si vede mi sembra qui ecco qua premendo triangolo modifica lista dei desideri appunto tu qua puoi chiedere quali osservatori fatti uscire però col cavolo che escono non escono mai io qua ho esperto tiki tagge 5 stelle su tutto è raro che escono comunque vabbè una cosa in più che ci stava secondo me mostrarvi quindi ragazzi io per oggi mi fermo qua come sempre vi invito a lasciare un mi piace iscrivervi al canale a seguimi sulla pagina instagram e a sostenere il canale tramite un abbonamento ed una donazione noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti ciao a tutti